Anticipazioni una vita, trama puntate, venerdì, 24 giugno 2022. Fabiana si rende conto dei cambiamenti che Imma, vuole mettere in atto al ristorante. La sua intenzione è quasi quella di trasformare il locale, in un'osteria e la moglie di Servante dissente completamente, da questa idea. Casilda e Azucena instaurano un buon rapporto, e diventano amiche a tutti gli effetti. Hortensia discute con sua figlia di quello che ha sentito, e giunge alla conclusione che Rosina e Liberto non siano in grandi condizioni dal punto di vista economico, come sperava. Valeria e David discutono sulla loro convivenza. Tutti i sospetti di Genoveva sul rapporto, che li lega ai Chesada diventano sempre più concreti. La Salmeron accusa Aurelio, di aver avuto qualche a che fare, con loro in passato. Gerardo si sfoga con Lolita e le racconta tutte le difficoltà, che comporta occuparsi di Felipe. Ramon fa le valigie ed annuncia alla Casado, che sta per trasferirsi dall'avvocato, lasciandola molto sorpresa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.